il problema è allora per Picador che non trova l'azione e poi anche Pinball Wizard che sbaglia si va in partenza con dall'esterno il numero 6 Peseta che parte forte e cerca di andare al comando delle operazioni Peseta che però trova l'opposizione di Peter Panlilu che lascia all'esterno l'avversaria poi si inserita molto bene il numero 13 Paprika Daghi i primi 400 metri lottati con Peseta che con un 27.7 passa a condurre ed è battistrada all'esterno è rimasto se non sbaglio Pietro il Grande adesso dalle retrovie avanza anche per Grimm sbaglia Peseta e così al comando rimane Peter Panlilu all'esterno avanza Pietro il Grande lungo lo steccato il 13 di Paprika Daghi allargato per Grimm per venire in mezzo alla pista anticipato da Paola PV dopo 800 metri in 58.3 al comando Pietro il Grande all'esterno Paola PV in terza ruota per Grimm ha spostato anche il 13 di Paprika Daghi che è una ruota danneggiata oggi non ha fortuna con i rotabili Palanga chilometro in 1.14.1 per Pietro il Grande che viene prestato da Paola PV lì sotto Peter Panlilu mentre per Grimm retrocede quando si attacca l'ultima curva un parziale in 15 Pietro il Grande è battistrada adesso in terza ruota avanza Prevert Rab Pietro il Grande ha respinto Paola PV che cerca di accodarsi Pietro il Grande invece allunga e con un parziale in 15 entra in vantaggio in retta d'arrivo Pietro il Grande che sta dominando la situazione arriva Prevert Rab ma all'affondo è tardivo perché Pietro il Grande ha già vinto secondo Prevert Rab per il terzo posto il numero 7 di Paola PV 1.14.6 32 a chiudere la vittoria per Pietro il Grande Martellini che riesce stavolta a portare a casa il successo la quota di 7.79 1.14.6 il tempo al chilometro per la quinta del San Paolo è tutto 14.47 l'ordineria ufficiosa e provvisorio di questo per la quinta del San Paolo per la quinta del San Paolo